John Borno, John Borno, John Borno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video John Borno Benvenuti nel barra sport dove la B è grande e quindi dove si parla di serie B come sempre Seconda puntata, forse un pochino in ritardo sul ruolino di marcia essendo oggi il primo settembre E visto che tra poco si gioca di nuovo in serie B visto che in realtà neanche tra poco Perché se non vado errato in realtà c'è anche la pausa della serie B questa volta Cosa che solitamente non c'era e non esisteva però in generale il campionato di serie B la giornata è finita il 29 Quindi ho dovuto aspettare fino al primo settembre per parlarvene Però credevo che fosse doveroso parlarvene e visto che siamo andati a cavallati con il calcio mercato Comunque ci tenevo a dirvi la mia sulla serie B e fare questo bar sport Prima di iniziare come sempre vi invito ad iscrivervi al canale, a lasciare tantissimi mi piace Se volete che io continuo in perterrito a parlarvi di serie B giornata dopo giornata E quindi vi accompagnerò in questo viaggio di serie B per tutto l'anno Partendo da Vicenza Frosinone, un ottimo Frosinone, una squadra che a mio modo di vedere può venire su Un Frosinone che vince a Vicenza con il risultato di 0-2 Una partita molto aperta, molto divertente come quasi tutte le partite di serie B Quindi le due squadre hanno già da abiso aperto, ci hanno divertito Un campo difficile secondo me quello del Vicenza Nonostante la partenza un po' thriller del Vicenza In realtà io credo che la squadra casalinga abbia fatto un ottimo mercato Possa insomma centrare la salvezza ma in realtà con l'organico che c'ha Potrebbe pure provare a prendere un posto ai playoff È partito oggettivamente male Però diciamo affrontava anche il Frosinone Una delle favorite per venire su Una delle squadre più forti della serie B Una delle squadre che c'ha secondo me uno degli allenatori un po' più interessanti Del panorama di allenatori giovani italiani Ovvero Fabio Grosso Che mette bene, spesso bene in campo le proprie squadre E a me non dispiace I gol arrivano tutti e due nel secondo tempo Se non vado errato vado un po' a memoria Ciano e Maiello dal dischetto Segnano il 2-0-2 Vince il Cittadella E quest'anno attenzione perché il Cittadella potrebbe essere finalmente Squadra che viene su Vince 4-2 in una gara casalinga contro il Crotone Vittoria importantissima Vittoria importantissima innanzitutto perché il Cittadella dimostra di giocare bene A pallone ma lo sapevamo Lo sappiamo ormai da diversi anni E spesso insomma ha fatto fatica Poi non è mai venuta su ma perché Gli manca sempre il centesimino per fare l'euro Però il Cittadella è una squadra che è partita bene Due vittorie su due È un po' l'Atalanta della serie B per quanto riguarda i miracoli Perché poi andiamo a prendere la rosa del Cittadella E lo piazziamo sempre in basso Però quest'anno magari un colpo al cerchio e una alla botte ce la fa Diciamo che con la sfiga che c'hanno per venire su dovrebbero arrivare o primi o secondi Se no su non ci vengono mai Sul Crotone boh in realtà già che hanno perso calciatori come Simi e Messias Insomma un pochino pesa Però era abbastanza palese Quando scendi in B non puoi scendere con determinati calciatori In fase difensiva non è che siano chissà che Non mi hanno mai dato l'impressione di poterla vincere E comunque alla fine la vittoria del Cittadella è più che meritata Pareggio invece tra Lecce e Como Finisce 1-1 la gara che si gioca in Salento Va avanti tra le due il Lecce su calcio di rigore al quarantesimo Poi subito dopo la pareggia a Cerri Ma in realtà io penso che il Lecce debba iniziare un pochino a capire qual è il suo problema E vi spiego quello che sto dicendo Io pensavo che il Lecce fosse una delle squadre favorite per venire su Invece il Lecce ha fatto un punto in due partite contro Cremonese e Como Tutt'altro che squadre favorite per la promozione in Serie A Il Lecce non mi è piaciuto tanto nel match contro il Como Mi sono anche recuperato gli highlights nuovamente per stare tranquillo Per cercare di capire se quello che stavo dicendo era una cagata A me sinceramente il Como nonostante tiri meno in porte sia più cinnico Boh mi piace di più Mi sembra una squadra un po' più rotata Mi sembra una squadra un po' più intelligente qualitativamente Forse meritava addirittura un colpaccio e la vittoria L'unica cosa sono curioso di Wilshere che si sta allenando con il Como Si dice pare che Wilshere non si alena con il Como per giocare con il Como Però sarebbe intrigante Vince la SPAL distruggendo nel vero senso della parola Vincendo 5 a 0 contro il Pordenone Mancosu, Colombo che insomma deve assolutamente esplodere Capradossi, Viviani e Latte Latte Li conosciamo tutti uno per un motivo uno per un altro Ma la SPAL ragazzi ha distrutto Ha distrutto il Pordenone Vi leggo qualche statistica per farvi capire di quello di cui vi sto parlando 30 tiri a 6, 13 tiri in porta a 0 65 possesso palla a 35 550 passaggi a 300 Precisione dei passaggi 90% a 75 Ragazzi il Pordenone non ci ha capito niente Non mi aspettavo il risultato così pesante per il Pordenone nella seconda sconfitta di fila 0 gol fatti in due partite È ovviamente allarme Sulla SPAL sono molto più curioso invece di vedere quello che farà Di vedere come sta costruendo il proprio futuro L'unica cosa che mi fa piacere diciamo del Pordenone è il fatto che dopo la partita abbiano mandato silenzio stampa E quindi vuol dire che sanno che loro non sono questi E che possono lottare appunto di nuovo per sognare per venire su Per quanto riguarda la regina La regina vince Vittoria importantissima per la squadra calabrese 3 a 2 contro la Ternana Una partita tra l'altro piena di colpi di scena Doveva avanti la Ternana con il solito faletti tra l'altro Che a me piace veramente tanto Poi c'è Remy Menez la pareggia Il 2 a 1 dal dischetto di Galabinov La regina quest'anno ha fatto una gran bella squadra Rivas fa il 3 a 2 Il 3 a 1 e poi Mazzocchi fa il 3 a 2 Nel mezzo Menez si fa buttare fuori 10 minuti dopo aver fatto gol Agazzi si fa buttare fuori dal 25esimo Al 95esimo Proietti si fa buttare fuori Per la Ternana la partita è molto 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 divertente È una Ternana che resta praticamente in 9 e che resta a 0 punti Su questo dovrà lavorarci Però io ve l'avevo detto già dal precampionato dove la Ternana aveva affrontato la Roma Tra l'altro La Ternana ragazzi gioca Se non sbaglio l'allenatore è Cristiano Lucarelli La Ternana gioca La Ternana ha un'identità di gioco Io penso solo che debba uscire fuori Quando uscirà fuori la Ternana inizierà a fare punti Per il momento tra un rosso e un altro Far punti è abbastanza improbabile Però insomma già è qualcosa poterne parlare in questo modo Per quanto invece riguarda il Monza Vince il Monza per 1 a 0 di misura contro la Cremonese Era una vittoria che doveva arrivare Perché insomma la squadra Lombarda si è fatta un play in un piano per salire immediatamente E dopo il pareggio se non vado errato della prima giornata Stavolta vincere era praticamente l'imperativo unico che serviva È una Cremonese poco precisa È una Cremonese che comunque tutto sommato Va addirittura avanti se non sbaglio Addirittura aveva segnato Dionisi Mi pare Dionisi aveva segnato per Dionisi o sbaglio Era Dionisi Vado errato? La Cremonese aveva fatto gol con l'attaccante Ne è che era Ciofani Perché erano i due del fruttino Ne è che era Ciofani Scusate Vabbè aveva segnato con Ciofani forse Non mi ricordo Comunque sì Mi confondo sempre tra Ciofani e Dionisi Chi mi conosce lo sa da quando Da quando sono piccolo Vabbè segnali centramanti della Cremonese Viene annullato per fuorigioco Alla fine poi il Monza la vince Un Monza che ovviamente vuole arrivare primo Come giusto insieme Era un attimo un panicato Parma che vince 1-0 con il Benevento Dopo la beffa di settimana scorsa Dove il Parma butta due punti nel cesso Stavolta sostanzialmente ne stava buttando altri due nel cesso Sebbene questo fosse un big match a tutti gli effetti La partita fosse molto equilibrata Il pareggio era il risultato più giusto Però questa è la differenza tra una squadra che ha un campione Tale Mudo Vaskets Che addirittura scende in Serie B Scende in Serie B ragazzi Questo è un giocatore fenomenale E mette quel palo dal 96esimo Su Micaela Su Valentin Micaela Che deve solamente far gol Ragazzi al 96esimo In quel momento lì 97esimo Micaela Secondo me svolta la stagione del Parma E soprattutto lì Vaskets Svolta la stagione del Parma E poi vabbè Il Parma c'ha anche Buffon in porta Fa delle parate decisive Il Parma è una squadra che Non può permettersi di perdere tempo E faremo anche il calcio mercato Il pagino del calcio mercato di Serie B Su questo canale Quindi ve lo anticipo Uscirà in settimana Benevento sono curioso Perché tra l'altro ha preso Paliari Che è sempre il miglior portiere della Serie B Vince Lascoli In casa del Perugia Vince 3-2 Vittoria importante in chiave salvezza Almeno in premessa Poi bisognerà capirlo Perché poi Sapete com'è la B Lascoli parte per salvarsi Arriva primo Quindi vittoria in chiave salvezza Per Lascoli Che va subito avanti con Saric La pareggia carretta dall'altra parte Poi c'è il 2-1 di Alejandro Rosi Pensa te Alejandro Rosi Al Perugia La ripareggia Saric Poi Dionisi Ecco Dionisi dove era Dal dischetto Fa il 3-2 Mamma mia ragazzi Dionisi è ciovani Me li ricordo a Frosinonelli davanti Facevano il devasto Per Lascoli è una vittoria importante È una vittoria di carattere È una vittoria che gli permette di andare a 6 punti Punteggio pieno Ragazzi per Lascoli non è assolutamente male Il Perugia aveva già vinto quella prima Vince anche questa Sono curioso di vedere come continueranno i percorsi delle due squadre Perché poi Vi ripeto Lascoli sulla carta parte sempre per salvarsi E la salvezza è sempre sperata Ad Ascoli Però comunque se fai due vittorie in due partite Un pochino ci sogni E speri di buttarla in cacciara Per quanto riguarda gli ultimi due campi Partiamo dal Pisa Vince il Pisa 2-0 contro l'Alessandria Anche il Pisa possiamo dirlo Questo è un po' sogno contro Incubo in realtà Tutti sognano di partire come il Pisa Nessuno sogna di partire come l'Alessandria Due partite per l'Alessandria Due sconfitte Due partite per il Pisa Due vittorie Lorenzo Lucca fa due gol in 5 minuti A 10 dalla fine erano 0-0 Il Pisa fa due reti E entrambe le fa Lorenzo Lucca Porta a casa Una vittoria importantissima Per il Pisa Anche qua penso che Si vada più sul discorso salvezza Poi lo capiremo durante la stagione Però sognare come dico sempre Non costa a nulla Cioè il Pisa è una squadra concreta Il Pisa è una bella squadra Il Pisa è una squadra che Se non sbaglio è venuta dalla C Ha preso anche degli innesti interessanti Ripeto ne parleremo nel mercato Però già le verbe dal Chiavo Verona Secondo me è un innesto abbastanza importante Poi Lucca è un po' il destino Entra e la decide Vedremo Comunque vedremo Non voglio parlare di cose che potranno accadere Ma che era sto rumore? Non voglio parlare di cose che potranno accadere Vedremo piano piano L'ultima partita è quella che mette di fronte Brescia e Cosenza Vince il Brescia Ma che dico vince? Stravince il Brescia Appunto portando il risultato a casa Con un roboante 5-1 per il Cosenza Come sempre arriva il campanello d'allarme Perché probabilmente anche quest'anno Come al solito Il Cosenza dovrà andare in guerra Ogni partita per strappare i punti a destra e sinistra Nella speranza che alla fine Non si sa come e non si sa quando Arrivi una salvezza Forse difficile Forse quest'anno sì Vandeloi fa doppietta Segna Iagello Segna Tramoni Segna Moreo Il Brescia è una squadra Comunque interessante Il Brescia è una di quelle squadre Di quel novero di squadre Che punta a salire E qualunque altro risultato Che non sia La promozione Non dico diretta Ma la promozione Potrebbe essere un fallimento Brescia che tant'è che è primo gol Fatti i 7 gol Subito solamente uno Questo contro il Cosenza Un 5 a 1 Un 2 a 0 nell'altra giornata Ed è importante quello che sta facendo il Brescia Cosenza invece che è praticamente ultimo degli ultimi Peggio del Cosenza Ha fatto solo e soltanto E solamente il Pordenone Detto questo andiamo a dare un'occhiata Mi tiro un pochino più qua Alla classifica Ve la metto qui alla mia destra La classifica attuale è questa Brescia Cittadella Pisa Ascoli a 6 punti Frosinone Parma Regina E Monza a 4 3 punti Spal Cremonese Benevento Perugia 2 punti per il Comun 1 punto per Crotonellece 0 per Alessandria Ternana Vicenza Cosenza E Pordenone Queste sono le squadre Appunto Questa è la classifica di Serie B Dopo due giornate Torneremo a parlare di Serie B Sì Ma torneremo a parlarne dopo Il turno di Serie B Perché questa settimana Se non vado errato C'è la pausa Mi dispiace Una volta non c'era la pausa per la B Invece fanno la pausa stavolta Quindi si giocherà tra 10 giorni Però è tanto un quadro Ve l'ho fatto E magari questa sarà la volta buona Per riuscire a portarvi come promesso Un paggellone del calcio mercato Della Serie B Se no non c'è mai tempo Fatemi sapere la vostra Iscrivetevi al canale Mi raccomando Qualora non lo aveste già fatto Io vi ringrazio per aver visto questo video Vi invito a lasciare tantissimi mi piace Buonasera all'allene come sempre Ci vediamo ad un prossimo video Ciao